Questo programma contiene linguaggio volgare. In spiaggia, una delle ragazze sta per affrontare il suo incubo peggiore. Vi prego, non voglio un ex. È troppo tardi, Lorraine. Arriveranno! Arriveranno! Sono così nervosa. Vedo dei segnali. La sabbia è nera, il cielo è grigio-oscuro, le onde sono altissime. Potrebbe essere il mio ex. Non so cosa pensino le altre ragazze, ma io spero che sia un loro ex e non il mio. Oh, sono così tesa! Ma di chi è l'ex? Sono senza parole. Ciao, Lorena. Mi ha spezzato il cuore. Wow! Ciao! Piacere di conoscervi, Itai. Mi chiamo Itai e sono israeliano. Nel mio paese faccio il modello professionista. Lorena e io abbiamo avuto una relazione piena di passione. eravamo molto innamorati. Sono stato io a chiudere la relazione con Lorena perché era un po' immatura per me. Ma il feeling con lei era davvero speciale. Mi manca moltissimo e nessuno potrà mai impedirmi di riconquistarla. Piacere di conoscervi, ragazze. Quindi provi ancora qualcosa per Lorena o... Siamo anime gemelle. Sta dicendo a Lorena che lui è la sua anima gemella. Ma noi pensiamo che la sua anima gemella sia nella villa. Aiuto! Scherzi, mi hai spezzato il cuore. Perché? 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 Lorena è una donna davvero molto emotiva. Non riesco a capire che cosa possa passarle per la testa. Che cosa vuoi? Mi manchi. Oh, ti manco dopo due anni? Vorrei che capisse quanto mi ha ferita quando mi ha lasciata. Mi hai lasciata, mi hai bloccata sul telefono, non mi hai più parlato. Mi hai lasciata e basta. Perché eri immatura. Cos'altro avrei potuto fare? E allora? Quindi? Beh, se non sei capace di lasciare una persona, non sei un vero uomo. Punto. Sono cambiata molto e ora rendo felice un altro uomo. Bene. E non sarai tu, perché indovina un po' ho un ragazzo. Si chiama Joy e lo conoscerai, non preoccuparti. Quindi, buona fortuna. Sono molto, molto felici insieme. Sì? E innamorati. Sono in management? Sin dal primo giorno, sin dal primo giorno. Sono pronto. Adoro la competizione. Sono venuto qui solo per portarmela via. Itai dovrà lavorare davvero molto, molto sodo se vuole competere con Joy. Non me ne andrò dalla villa senza di te. Oh, mamma mia. Cos'altro può succedere? Tablet del terrore. Ci risiamo. Itai, devi decidere quale ragazza vuoi portare fuori con te. Lorena. Ho un ragazzo. Non voglio uscire con te. Dai, forza. A voi due non ci penso neanche. Che cavolo. Credo che Joy sarà preoccupato soprattutto dal fatto che lei e il suo ex sono usciti insieme. Ci sarà molta tensione oggi in villa. Non sono un indovino, ma credo che potresti aver ragione. Allora, insieme a tutti i nostri intensi desconfiuti in täältà.